Uccide l'anziana madre e poi si toglie la vita, orrore a Cesano di Sediaglia. In casa con quattro etti di cocaina, in manette un diciannovenne incensurato di colli al metauro. Marco Filippetti, nuovo presidente dell'Associazione Albergatori Pesarese. Scocca l'ora dell'esame di Stato, domani prima prova di maturità per 3.000 pesaresi. Continuano i grandi ospiti della sessantesima mostra del cinema in piazza Pesaro c'è Valentina Lodovini. Ben ritrovati al nostro telegiornale. In questa prima edizione delle 19.30 apriamo parlando di una tragedia familiare avvenuta ieri sera a Cesano, frazione di Senigallia al confine con il territorio di Marotta. Una donna di 87 anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dal figlio di 51 anni, che poi si è tolto la vita con la stessa pistola. Uccide l'anziana madre, lascia il cadavere sul balcone, poi si barrica in casa e decide di togliersi la vita con la stessa pistola con cui aveva compiuto l'omicidio. Orrore familiare lunedì sera nella frazione Cesano di Senigallia, a pochi metri dal confine con Marotta e la provincia pesarese. Ornella Veschi, vedova di 87 anni, è stata uccisa attorno alle 19 con un colpo d'arma da fuoco esploso dal figlio di 51 anni, Marco Rossetti. Dopo aver sparato alla donna, ha avvertito uno dei due fratelli del suo gesto. Intervengono carabiniere e polizia che tentano una negoziazione con Rossetti, barricato in casa con il cadavere della madre lasciato sul terrazzo dell'abitazione. Attorno alle 20.30 però l'uomo decide di farla finita sparandosi. Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica dell'omicidio-suicidio ed ora cercano di far luce sul movente. Rossetti soffriva di crisi epilettiche e problemi psichici, tanto da essere seguito da dieci anni dal servizio igienementale di Senigallia. Amava le armi e le sfoggiava anche sui social. Il porto d'armi però gli fu revocato due anni fa e le indagini stanno cercando di appurare come possa essere entrato in possesso illegalmente di un'arba da fuoco. Continuiamo a parlare di cronaca, in questo caso ci occupiamo di un'indagine contro lo spaccio di stupefacenti avvenuta nel territorio di Colli al Metauro. Una vera e propria base dello spaccio di cocaina in casa di un ragazzo di 19 anni. A finire in manette un incensurato di origine albanese che i carabinieri di Colli al Metauro hanno trovato in possesso di quattro etti di cocaina e 11.500 euro in contanti ritenuti provento di attività di spaccio. Già da diversi giorni i militari avevano infatti notato un anomalo andi rivieni nei pressi dell'abitazione in questione, motivo per cui hanno deciso di intervenire sottoponendo il ragazzo ad un accurato controllo non appena uscito di casa. Nel corso della perquisizione personale e in macchina, i carabinieri hanno rivenuto un pacchetto di sigarette nel quale erano occultate tre dosi di cocaina termosaldate già pronte per lo spaccio. Poi la perquisizione in casa ha consentito di rinvenire in camera da letto un vero e proprio laboratorio per la preparazione di cocaina. Quasi 400 grammi suddivisi in tre grossi involucri, un bilancino di precisione e sostanze da taglio del tipo mannite. Il 19enne è stato arrestato in flagranza di reato e recluso nel carcere di Villa Fastigi. Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza e la destinazione del cospicuo quantitativo di droga sequestrata. Ed ora cambiamo argomento. Nuovo presidente dell'APA Hotels. Dopo le dimissioni di Paolo Costantini della settimana scorsa, l'associazione pesarese degli albergatori ha scelto Marco Filippetti come nuovo presidente. Nuovo incarico che al momento ha trovato ufficioso, con senso unanime nella categoria, ma che verrà ratificato il 26 giugno in occasione della stessa assemblea dell'APA. 41 anni, Marco Filippetti ha una consolidata esperienza da vicepresidente del gruppo Limberg Hotels & Resorts, che controlla a Pesaro gli hotel Excelsior, Charlie e Nautilus, oltre ad altri 4-5 stelle presenti in Sicilia, Sardegna, Umbria e Rimini. Filippetti si occuperà del delicato coordinamento della categoria nella seconda parte dell'anno di Pesaro Capitale della Cultura e nel raccogliere l'eredità che il riconoscimento produrrà negli anni a venire. Scatta l'esame di maturità per oltre 3.000 studenti nella provincia di Pesaro Urbino. Domani alle 8.30 suonerà la prima campanella con la prova di italiano uguale per tutta Italia. Fra i maturanti c'è anche il volto noto di Rossini TV ed insieme a Canestro Giovanni Zid, dal quale abbiamo chiesto le sensazioni della vigilia. Domani mercoledì 19 giugno suonerà la prima campanella sull'esame di Stato 2024. Più di 3.000 maturanti della provincia di Pesaro Urbino saranno sui banchi di questo esame di maturità. Tra questi c'è anche il volto noto di Rossini TV insieme a Canestro Giovanni Zid, 18 anni. Giovanni, sensazioni della vigilia? Sicuramente un po' d'ansia c'è sicuramente. Una prima prova il mercoledì, una seconda il giovedì, una dopo l'altra e poi dal 24 si partirà con l'orale. Liceo Mamiani, per Giovanni, sul tema si va a intuito? Ci si prepara prima? Sicuramente per la prima prova si parla di tre tracce differenti. La traccia ha l'analisi del testo di italiano, quindi possiamo dire i soliti papabili come Ungaretti, Svevo, Guglielmo Marconi, Pirandello, oppure sulla traccia B il testo storico, culturale, è un po' più argomentativo, oppure si può parlare della traccia C, quella molto nota, che è quella sull'attualità. Ovviamente si parla attualmente di intelligenza artificiale, si parla di sport con le Olimpiadi, i campionati di calcio europei e gli europei di atletica. Sicuramente però ci potrebbe essere anche, possiamo dire, qualsiasi cosa che non ci si può aspettare, ci si può aspettare di tutto. Naturalmente è l'inizio di un percorso di passaggio, quello che è l'esame di Stato, che poi porta a quella che possiamo definire, la vita adulta, la vita del lavoro, una vita che Giovanni in qualche modo ha già intrapreso anche un po' in parte qui da noi a Rossini TV. Dove ti vedi Giovanni dal prossimo settembre? Sicuramente si chiude un capitolo importante che è durato cinque anni, i professori ci hanno molto aiutato e istruito anche negli ultimi settimani e sicuramente speriamo che vada per il meglio per Bologna e per Scienza della Comunicazione. Dunque, Università nel futuro, da settembre, ottobre in poi, invece per quello che riguarda il presente stretto, che notte prima degli esami sarà? Sicuramente c'era molta ansia, saremo con tutta la classe, ci riuniremo e sicuramente staremo insieme fino alla fine. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, il numero ormai lo conoscete, 370-366-7210. Queste immagini ci arrivano dal quartiere pesarese di Pantano e mostrano un serpente nero lungo oltre un metro, presumibilmente un biacco, ucciso e investito da una macchina in transito in via Grazioli, strada che costeggia il parco Trulla e dista poche decine di metri dal torrente Genica. Ringraziamo quindi Marinella, una nostra telespettatrice, per queste immagini. Continuiamo a parlare di segnalazioni e continuiamo soprattutto a segnalare gli illeciti di abbandone di rifiuti e ce ne sono tanti veramente di casi che si ripetono con sistematica recidività fra i territori di Monte Labate e Valle Foglia. Rossini TV continua a ricevere segnalazioni di ingiustificati abbandoni di rifiuti. Tra i casi più recidivi, quelli degli accumuli di rifiuti ingombranti o speciali che continuano ad essere accatastati fuori dalle postazioni dei cassonetti in cui non possono essere conferiti. E il caso di Apsella di Monte Labate, così come di Bottego, Morciola di Valle Foglia, dove solo in questo mese di giugno sono apparsi gli oggetti che vi mostriamo in queste immagini. Materassi, sedie, stendini, scarti di edilizia, scarti di lavoro di materiali elettrici, borsoni eppure cumuli di indumenti usati che potrebbero essere invece riutilizzati a scopo del benefico portandoli negli appositi cassonetti. Ricordiamo che si tratta di un comportamento illecito e in particolare per i rifiuti ingombranti di tipo domiciliare, così come per sfalce e potature, Marche Multiservizi fornisce anche il servizio di ritiro gratuito a domicilio contattando semplicemente il numero verde 800-600-999. L'intelligenza artificiale può diventare uno strumento a misura di impresa, ne è convinta la Confartigianato di Pesaro che su questa tematica ha incentrato la diciannovesima edizione della Scuola per Imprenditori, conclusasi ieri sera. E si è conclusa la diciannovesima edizione del corso di formazione organizzato dalla Confartigianato Sede di Pesaro in contemporanea con la sede di Ancuna dedicato alle imprese. Il tema, l'intelligenza artificiale e tutta la sua applicazione dal punto di vista lavorativo. Sicuramente la Scuola per Imprenditori arrivata, come già detto, alla diciannovesima edizione è il percorso formativo più interessante e più centrato per gli attuali imprenditori e i futuri imprenditori presenti sul nostro territorio. Nell'arco degli anni, di questi diciannove anni, si è sviluppata con diverse tematiche, una su tutte il credito, piuttosto che l'area lavoro, piuttosto che il fare impresa consapevole, sostenibile, perché comunque diciannove anni iniziano ad essere veramente un record. Tutto questo grazie alla partnership con l'Università Politecnica delle Marche, quindi con il Dipartimento di Management tramite il magnifico rettore Gianluca Gregori e ovviamente il supporto della Camera di Commercio delle Marche. E i vostri associati hanno delle imprese molto eterogenee, quindi come è possibile che ognuno possa trovare la propria applicazione migliore? È uno degli argomenti, una delle tematiche per il quale è stato scelto di affrontare un tema così importante come l'intelligenza artificiale è stata proprio questa, cioè mettere a disposizione delle nostre imprese, dei nostri artigiani presenti sul territorio tutti quegli strumenti utili e atti a utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale e quindi poterla utilizzare e non averne o non subirne il percorso di crescita di quello che ormai sta prendendo luogo sul nostro territorio e attraverso il quale alcuni imprenditori hanno già capito il valore assoluto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale calato sulla propria impresa. Quindi feedback assolutamente positivi. Stasera ci sono stati la consegna degli attestati e tutti hanno ringraziato perché comunque un corso di selezione sviluppato su tre mesi completamente gratuito in cui viene rilasciato un attestato non è tutti i giorni che si può affrontare e conoscere. Ed ora cambiamo argomento perché continua la passerella di grandi ospiti di questa sessantesima mostra del cinema di Pesaro. Questa sera alle 21.30 in Piazza del Popolo sarà presente l'attrice Valentina Lodovini in occasione della proiezione del film La giusta distanza nel decennale della scomparsa del regista Carlo Mazzacurati. Valentina Lodovini che abbiamo ascoltato questo pomeriggio ai nostri microfoni. La quinta serata della sessantesima mostra del cinema di Pesaro porta in Piazza del Popolo la proiezione della giusta distanza di Carlo Mazzacurati nel decennale della scomparsa del regista. Il protagonista del film del 2007 fu Valentina Lodovini che questa sera sarà ospite del festival. Una proiezione preceduta a questo pomeriggio dalla conferenza stampa della stessa Lodovini nell'ormai quotidiana location dell'Atelier Atti. L'attrice ha ricordato il valore affettivo e formativo di quel film e dell'essere diretta da Mazzacurati. Ancora ogni tanto penso che non è accaduto cioè nel senso che sono veramente infinitamente grata di essere parte di quel film del fatto che faccia parte della mia storia e quindi è un privilegio e sono molto 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 emozionata veramente tanto mi spiace che non c'è Carlo qua quello tanto però è un film che amo tanto che penso che sia bellissimo è un film che il pubblico ama perché poi comunque ciò che conta è il pubblico cioè non esistiamo senza pubblico ed è un film che è vivo nonostante compie 17 anni è un film che è vivo quindi questo è grandioso. Da La giusta distanza al presente la Lodovini continua il suo versatile dividersi fra cinema, teatro e tv. L'importante è il contenuto mi viene da dire più che altro che non sia inutile o comunque privo di identità che non si fanno cose poi abbraccio tutto mi piace ma si vede dal mio curriculum insomma sono una che fa cose diverse un lavoro particolarmente fecondo in questo 2024 ci sono tre film che usciranno in sala ottobre, dicembre e gennaio non posso dire nient'altro perché sennò mi tirano i capelli però ci sono tre film che speriamo che abbiano una bella vita domani alle ore 17.30 all'auditorium di Palazzo Montani Antaldi di Pesaro si terrà la 38esima edizione del premio del Circolo della Stampa come da tradizione il riconoscimento è riservato ai pesaresi di nascita ad adozione o onorari che hanno conseguito particolari meriti in ambito scientifico artistico e manageriale ad essere premiati domani saranno i soprano Anna Maria Alberghetti il biologo Marco Andreani l'astrofisica Ilaria Pascucci la top manager di Amazon Valeria Pascucci il divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini per la seconda estate consecutiva Piazzale Lazzarini di Pesaro si animerà ogni giovedì sera alla presenza di artisti musicisti collezionisti ed esposizioni vintage in un programma di appuntamenti organizzato dall'associazione Piazza del Teatro si comincia questo giovedì 20 giugno con mercatini e artisti dalle 18 a mezzanotte assieme all'apertura serale dei negozi della piazza e della vicina Via Curiel a luglio torna il consueto appuntamento con i concerti Xan Italia diretti dall'orchestra sinfonica Rossini andiamo quindi a scoprire chi sono le due cantanti che si esibiranno in altrettanti concerti gratuiti in Piazza del Popolo sono due serate straordinarie perché straordinarie sono le artiste che ospiteremo quest'anno nei concerti Xan Italia due concerti va detto in Piazza del Popolo a Pesaro a ingresso gratuito la prima quella del lotto che sarà ospite nostra l'8 luglio è Carima che è arrivata la ribalta per essere giunta nella finalissima di Amici di Maria De Filippi arrivata terza ha vinto però all'unanimità il premio della critica che è un premio importante perché appunto va proprio a vedere le qualità artistiche dei giovani in quel caso di lei si dice appunto che la sua versatilità vocale la rende una delle voci italiane più interessanti oltre alle sue composizioni ascolteremo cover di Whitney Houston ma anche composizioni fatte dal celebre autore di musiche da film Buck Bacharach e quindi diciamo che è un artista che dopo questo lancio in un talent oggi è affermata sotto tutti i punti di vista il secondo appuntamento quello del 15 luglio vedrà come protagonista Chiara Gagliazzo è stata la vincitrice assoluta dell'edizione 2012 di X Factor in cui veniva guidata dal folle ma assolutamente competente Morgan e da quel momento è iniziata una bellissima carriera anche lei guidata da un organo vocale molto prezioso che le è valso il diciamo titolo di Nuova Mina ha fatto di Mina tante cover e ce le proporrà nella serata del 15 luglio sempre Piazza del Popolo sempre ingresso gratuito assieme ai suoi successi uno su tutti due respiri canzone composta da Eros Ramazzotti per lei che ha avuto un grandissimo successo e anche Stardust il duetto fatto insieme a Mica che ha avuto un successo planetario l'orchestra sinfonica è sempre altamente professionale anche in questo versante della musica pop che un po' è stato richiesto da me per allargare il pubblico fruitore sono stati anni di soddisfazione come dicevo anche quest'anno due appuntamenti importanti uno con musica e con capolavori di musica italiana e gli altri internazionali due appuntamenti che credo vedranno tanto pubblico partecipe siamo soddisfatti io sono soddisfatto e continueremo questa vicinanza all'orchestra per i prossimi anni con l'entusiasmo che abbiamo avuto in quelli che sono già passati e siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma continuate e restate con noi e collegati sul nostro canale 80 perché questa sera è una serata dedicata all'arte e alla cultura innanzitutto alle 21 e 20 vi mostreremo quella che è stata la conferenza stampa di presentazione della mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro un'occasione quello di questa sera per conoscere tutto il programma che andrà avanti fino alla serata di sabato e poi subito dopo continuiamo a parlare di cinema cinema Astra in via Rossini a Pesaro dove c'è stato questo importante appuntamento di dibattito sul grande schermo quale futuro per le sale e poi domani invece torno alla rassegna stampa questa settimana sarà con voi appunto Marco Cadedu che vi aspetta domani alle 7 e 20 grazie per essere stati con noi il consiglio è sempre quello di scaricare la nostra applicazione per poter seguire la nostra emittente le notizie del vostro territorio sempre a portata di mano nel vostro cellulare buona serata grazie a tutti